Grazie a tutti Credo che la cosa migliore sia fermarsi e meditarsi Questo riconoscimento di riempie di gioia è testimonia il forte legame tra la mia famiglia e questo ospedale Oggi un'eccellenza per tutti i produttori, la cui competenza e bravura ho personalmente vissuto come paziente All'amico presidente della fondazione Cavalier Ceretto, con il dottor Camillo e dei nostri sostituiti di medici Con tutto lo staff ospedalieri il mio augurio sincero per il loro più debito e affermato Grazie Grazie Grazie